Tra le zone colpite anche Cerreto, Desi, sfollati, danni, casse comunali in difficoltà. Silvio Vitelli. Il fiume d'acqua è arrivato da questa parte e ha inondato completamente la Ariston e poi ha coinvolto la nostra arteria principale. Da quella zona industriale l'acqua si è spostata fin qui e la strada che porta al depuratore purtroppo è ancora interrotta a causa dei danni subiti. Cerreto, Desi, Ancona. Dopo la grande paura per l'alluvione è il momento della conta dei danni. Centinaia garage allagati come pure quattro fabbriche e le tante strade da rimettere in sesto. In questo momento siamo molto preoccupati per la mole di interventi che dobbiamo fare che richiedono uno sforzo economico molto ingente. Siamo preoccupati in virtù del fatto che il caro Polletti ci ha messo in una situazione di difficoltà enorme. Oltre alla questione economica c'è anche quella umana. 26 persone che non hanno più casa come è accaduto a Valentina e Roberto. Volevamo cercare di sollevare i congelatori, la roba che avevamo nel garage però non pensavamo che in due secondi arrivasse l'inferno. Il tempo di prendere mio figlio e andare a salire nei piani superiori è entrato. Quello è il seggiorno di vostro figlio? Sì. Quanti anni ha? Nove mesi. Non ha pianto un secondo. È stato bravissimo. Le porte sono state totalmente strappate dai cardini. L'acqua è arrivata qui. Altezza gomito. Cosa vi aspettate? Soprattutto una sistemazione per noi, per il bimbo, perché dentro una camera d'albergo in tre non è una vita da fare. Soprattutto una cosa di più. Cosa vi aspettate? Soprattutto una cosa di più.